Musica Animazione Buono, buono Ma è sazionato Di più, di più, animazione di più Non c'è di più? Non c'è di più di buono? Vogliamo un commento Come è andata la vacanza Cosa ne pensa dell'animazione Se ci pagate un'altra settimana Rimaniamo Come volete, va? Commento Non abbiamo fulghi Ci avete pensato, però Tutto bene, allora Dimmi, voi vi siete divertiti? Si vede Parlate Perché questi è capace Che poi ci mettono loro le voci Parlate Che questi sono capaci di tutto Positiva Hanno fatto parlare un cane L'animazione è perfetta Se non ci vuoi stare aperto Perfettissimo No, no, sono state belle Una bella settimana Un bel villaggio Peccato Griglia Ma va bene Stiamo peccato Un commento a caldo Animazione Accettabile Questa non la metterai No, vabbè, questa non la mettere Dai, no Animazione abbastanza buona Sperando sempre in un miglioramento Per l'anno futuro Vabbè, così, vabbè Non pure devo infierire Allora, fermo la voce Animazione Animazione spiaggia N2 Animazione serale Ho scritto Perché poi vi dirò Mini club Mini club Balsissimo Mi sta domando Mini club Mini club Non possiamo dare di Non possiamo dare di Ah, ma se mi sta riprendendo Certo Allora, è veramente stata una vacanza piacevole Della serie Ulsi così colà Dove si vuole ciò che si vuole In più Andi vandate Senti, smettila qua Dottore Alberto Perché altrimenti Ti faccio ritirare la laurea Bene, va bene Ti lo scusò Benissimo L'animazione è perfetta Anzi Stupefacente Questa vacanza è andata molto bene E l'animazione è stata fantastica E grazie a loro mi sono divertito moltissimo È stato veramente stupendo Non ho proprio parole Devo dire la verità Ci siamo divertiti tantissimo Meglio di questo Si muore Arrivederci all'anno Va bene Questa vacanza è cosamente l'animazione Si è stupendo L'animazione è eccellente Il villaggio è meraviglioso Senza parole La vacanza è stata bellissima L'animazione è stata Favolosa Tutto bene No, tutto bene Infatti già adesso Adesso Torniamo a casa Prendiamo per l'anno prossimo Ma voi ci siete? Vedremo No, eh no Eh no Sì Sì Ok Allora ci vediamo l'anno prossimo Ciao 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 Dovente bambino Un'intervista di bambina Benissimo Devo dire che l'animazione è molto preparata E credo che l'anno prossimo Ci vedremo ancora qui Va bene Grazie Buon proseguimento A tutta l'equipe Sempre in gamba Crediamo l'anno prossimo Beh ottimo il villaggio Sì Qualche pecca soltanto nel Lido Che in effetti secondo me Svilisce un po' il nome del villaggio Può avere un'animazione buona Bravi Complimenti Eh la prima cosa che ho scritto Che è stata un'animazione viva Bella Molto professionale Veramente L'anno prossimo non ci siete più Vedremo Vedremo Tutto bellissimo Sono tre anni che vengo qua Tutto stupendo Non una parola di più Nell'altra di meno Bellissimo Un'animazione molto bravi e simpatici Giudizio positivo Sicuramente il giudizio positivo Soprattutto che sono un veterano del villaggio Per cui a quel punto siete nell'animazione Cosa ne è promettata questa vacanza Cosa ne pensi dell'animazione Guarda siete stati eccezionali Io ho detto che sulla scheda vostra Cioè sulla scheda che il club ha consegnato Come votazione massima era buono Io avrei messo per voi anche eccellente Perché siete stati fantastici Bravi ragazzi Andate così siete sulla buona strada Allora abbiamo trascorso una vacanza bellissima Qui al Blue Marine Allegrati dall'animazione In particolare da un certo albero Un certo David Poi c'era un ciccione Una panza rotta Una capocchiura E ci dispiace andare via Ma purtroppo anche le cose belle finiscono Qui c'è il mio amico Torino Siccome le cose belle finiscono Sono finite Quindi ce ne torniamo Siamo stati veramente bene Devo dire Io mancavo da Marina di Camerota Da 30 anni E' stato molto piacevole ritornarci E con lui è stato il primo anno Che abbiamo fatto vacanza assieme Dopo 30 anni Dopo 40 anni che ci conosciamo Dopo 40 anni che ci conosciamo Quindi questo è stato un posto Veramente che ricorderemo E sicura Si dice così Che non si torna mai La seconda volta In un posto che è stato bene Proveremo Stiamo pensando a ciò Stiamo pensando Se ci sta a Bezzi Se ci sta a molte quanti cose Se non ci sta a Giola Non ci vuol dire che non Che non Torneremo Perché non ci sta Insomma la parte Poi c'è la mia preferita Che sta qua La nostra preferita Che sta qua Insomma noi Ditemi L'anno scorso siamo stati Una schifezza Posso dire Ma quest'anno Ci avete proprio Tra le grandi Più di queste Non posso dire Salve Volevamo sapere Come è andata la vacanza E cosa pensa il nostro Sì buongiorno Sono il dottor Marangoni La vacanza Purtroppo è arrivata Alla fine Tutto sfumato È andata bene Soprattutto Per queste animatrici Che ho qui In macchina Che sto riportando a casa Perché lo apprezzate molto E le riporto tutte a casa Mi dispiace per voi Dovete sostituirle Ma a casa di chi? A casa mia A casa di chi? Scusa A casa mia Oh Queste fanno tutto Fanno tutto Buongiorno Buongiorno Fanno posto Il dottor Maragoni Fa pure raccolta differenziaria Sì buongiorno Sì buongiorno Sì buongiorno È andata bene Sì buongiorno